Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal diacono Massimo Long. Benvenute e benvenuti all'appuntamento con il culto evangelico trasmesso da Radio Beckwith. Vogliamo invocare la presenza del Signore con le parole del libro degli Atti al capitolo 2. Padre, dacci il tuo spirito perché la tua promessa è per noi e i nostri figli e per tutte e tutti coloro che sono lontani e che tu chiamerai. Amen. Vi leggo dal Salmo 19 alcuni versetti. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole. La loro voce non sode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra. I loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in Tua presenza. O Signore, mia rocca e mio Redentore. Ci vogliamo raccogliere in preghiera. Dio nostro, Tu compi meraviglie su tutta la terra. Da un'estremità all'altra le Tue testimonianze parlano di Te, raccontano il Tuo nome, le Tue liberazioni e la Tua fedeltà. Tutto è armonia nella Tua opera e in essa ogni essere umano e ogni cosa creata trova calore che dà vita. Noi Ti benediciamo perché questo Tuo amore lo hai reso perfetto e limpido nel Tuo figlio Gesù. In Lui troviamo ristoro e riposo. In Lui i nostri affanni e le nostre fatiche trovano riscatto. In Lui e per Lui ti rendiamo grazie. Amen. I cieli immensi narrano del grande Dio la gloria, del grande Dio la gloria. I cieli immensi narrano del grande Dio la gloria. I cieli immensi narrano del grande Dio la gloria. Il firmamento lucido. All'universo annunzia. All'universo annunzia. Il firmamento lucido. Il firmamento lucido. Quanto siano mirabili della sua destranote. All'universo annunzia. Il firmamento lucido. Quanto siano mirabili della sua destranote. All'universo annunzia. il firmamento lucido. All'universo annunzia. Quanto siano mirabili della sua destranote. il firmamento lucido. All'universo. Quanto siano mirabili della sua destranote. All'universo. I cieli immensi narrano del grande Dio la gloria. Il firmamento lucido. All'universo annunzia. Il firmamento lucido. All'universo annunzia. Quanto siano mirabili della sua destranote. All'universo. O sieno mi ravi nella sua destra lope. La prima lettura di oggi, che sarà anche quella sulla quale ci soffermeremo per la meditazione, la troviamo nel libro del profeta Isaia, al capitolo 43, i primi sette versetti. Ma ora così parla il Signore, il tuo Creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato, e la fiamma non ti consumerà, perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo d'Israele, il tuo Salvatore. Io ho dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Io do degli uomini al tuo posto e dei popoli in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te, io ricondurrò la tua discendenza da Oriente e ti raccoglierò da Occidente. Dirò il settentrione, da, e al mezzogiorno non trattenere. Fa venire i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra. Tutti quelli, cioè, che portano il mio nome, che io ho creati per la mia gloria, che ho formati, che ho fatti. E poi leggiamo ancora dall'Evangelo di Matteo, al capitolo 28, i versetti da 16 a 20. Quanto agli undici discepoli essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo, l'adorarono, alcuni però dubitarono. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate, dunque, e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Benedica il Signore la lettura e l'ascolto della Sua parola. Amen. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, leggendo le parole del profeta Isaia, possiamo dire di trovarci di fronte ad un testo che riassume in pochi versetti la storia del rapporto tra Dio e il popolo di Israele. Una storia di promesse e benedizioni che si tramandano da generazione in generazione, alla cui base è la creazione stessa. Così parla il Signore, il tuo Creatore, colui che ti ha formato. Una storia di salvezza e di amore. Io sono il Signore, il tuo Dio, il tuo Salvatore. Tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Ci sono anche i riferimenti all'attraversamento delle acque che ci riportano al Mar Rosso e al Giordano. Due attraversamenti che raccontano l'inizio e la fine dell'Esodo, la fuga dall'Egitto e l'ingresso nella terra promessa. E poi ancora il fuoco, attraverso il quale Dio si è manifestato più volte e in diverso modo. pensiamo alla colonna di fuoco che di notte guidava il popolo nel deserto, oppure a Mosè davanti al pruno ardente. Ma il Signore non si ferma al passato. Dopo aver dichiarato il suo amore per il popolo, ecco la profezia, la promessa. Non temere, perché io sono con te. Io ricondurrò la tua discendenza da Oriente e ti raccoglierò da Occidente. Non si limita dunque ad amare e basta. Il suo amore ha delle conseguenze importanti per Israele e si possono vedere concretamente con il ritorno dall'esilio in Babilonia verso la terra promessa e la riunificazione della sua grande famiglia. Due azioni importanti e significative per un popolo che si sentiva solo e abbandonato e che forse iniziava a dubitare della potenza, se non addirittura della presenza del suo Dio. Attraverso queste parole il Dio di Israele porta una nuova speranza. Lui è presente, non ha perso la sua potenza, il suo amore è rimasto invariato, il suo popolo ritroverà la libertà nella terra che gli appartiene, secondo la promessa fatta ad Abramo. Ma le parole del profeta Isaia contengono qualcosa di più. Non sono rivolte soltanto al popolo di Israele in esilio, ma riguardano anche tutte e tutti noi. Dirò al settentrione da e al mezzogiorno non trattenere. Fa venire i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra, tutti quelli che portano il mio nome che io ho creati per la mia gloria, che ho formati, che ho fatti. I figli e le figlie di Dio di ogni parte della terra devono arrivare a Lui per riunirsi in quella grande famiglia di cui dicevamo poco fa. E qui è difficile non considerare queste parole alla luce di quanto detto da Gesù nel capitolo 28 dell'Evangelo di Matteo quando dice andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti i popoli, le estremità della terra. Ecco che qui scopriamo come il Signore non si rivolga soltanto al popolo di Israele. La chiamata di Dio avviene per tutte e tutti in maniera collettiva, ma allo stesso tempo è anche personale. Ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Certo, per Israele queste parole ricordano il legame speciale con Dio, sono l'affermazione di un diritto di proprietà di Dio sul suo popolo. Israele appartiene a Dio e appartenere è un verbo forte che evoca l'esclusività, ma d'altronde Dio non ama a metà e non ci invita a rispondere a metà al suo amore, ma con tutto il nostro essere. L'idea di proprietà che noi abbiamo è diversa da quella biblica. Nel nostro Codice Civile la proprietà è definita come il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Nella visione biblica appartenere a Dio non è un atto di schiavitù, al contrario è un atto di libertà. strappando il suo popolo dalle mani del faraone lo ha fatto uscire dall'anonimato della schiavitù per dargli un nome, un'identità a sé stante. Ognuna e ognuno di noi può riconoscersi creatura di Dio, può sperimentare la liberazione da ciò che oggi ci rende schiavi, può appartenere a Dio e vivere nella libertà che Egli ci dona attraverso la sua infinita bontà e quando ci troviamo ad affrontare le acque tempestose delle nostre tribolazioni, i fiumi in piena fatti di ostacoli all'apparenza insormontabili, il fuoco dei problemi quotidiani dai quali spesso ci sentiamo divorati, Egli è con noi per darci forza, coraggio, aiuto e soprattutto protezione. Noi tutte e tutti siamo preziosi i suoi occhi, nonostante i nostri difetti, la nostra incostanza, i nostri dubbi, noi siamo preziosi e Lui ci ama personalmente perché siamo Sue figlie e Suoi figli. Quanto siamo consapevoli di questo? Qual è lo spazio che Dio occupa nelle nostre vite oggi? O quello che da ora in poi vorremmo fargli alla luce delle parole del profeta Isaia che abbiamo appena letto e meditato? Il messaggio di Isaia era rivolto al popolo di Israele in esilio, ma è certamente ancora valido per ciascuno e ciascuna di noi e noi lo possiamo accogliere alla luce dell'Evangelo che ci annuncia un Dio che in Gesù Cristo si avvicina all'umanità. E allora l'Io sono con te di Isaia diventa Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente che troviamo in Matteo 28, l'altro testo di questa mattina. La promessa del Signore è dunque quella di rimanerci accanto come singoli ma anche e forse soprattutto come comunità. Non temere, ci dice il Signore. noi siamo parte di quella grande famiglia che è stata riscattata e salvata dalla croce di Cristo quel Cristo che ha promesso di rimanere con noi per i secoli dei secoli. Amen. il Signore è un segno che è vicino che solamente ti accompagnerà. Tu non temer sia pur la notte oscura solo non sei qualcun con te sarà seppur la vita appare tanto dura c'è di la guida dall'eternità. tu non temer lui guida il tuo cammino sa dove tuo con te gli sempre va egli era amico e prende a te la mano tu lo temer con te gli resterà tu non temer se tuo percorso è duro lui ti sostiene sempre con amor ti salverà con braccio suo sicuro sarà la forza sempre del tuo cuore vogliamo raccoglierci in preghiera signore padre nostro tu ci hai promesso di essere sempre con noi e oggi ti vogliamo dire quanto sia importante la tua presenza essa ci dà forza ci aiuta a combattere la paura e la rassegnazione ci sostiene e ci sprona nel nostro compito di testimonianza signore rendi forte in noi la compassione lo spirito combattivo il senso di giustizia e la ragionevolezza dacci di percepire che tu ci accompagni e sei con noi e donaci il coraggio di impegnarci per coloro che hanno bisogno di una parola di speranza che dia senso alla vita di uno sguardo sorridente per uscire dall'emarginazione di una mano tesa per potersi rialzare dopo una sconfitta di silenzio per essere ascoltati di amore per capire che anche loro sono figlie e figli di Dio tutto questo te lo chiediamo per amore di Gesù Cristo Amen e vogliamo continuare la nostra preghiera ascoltando o se volete potete cantare insieme l'inno 217 il Padre Nostro Padre Nostro che in cielo dimori nel tuo nome salte alla virtù sull'ora eternità e sia fatto Signore come in cielo il tuo volere qua giù oggi il pan quotidiano ci dona e le offese diventici ancora come ognuno di voi le perdona al fratello che gli è debito ci questo è amore vol paterno tale insinie del gran tentator tu sei regni potente eterno tu fedele glorioso Signore vogliamo accogliere la benedizione del Signore il Signore rivolga il suo sguardo verso di noi Lui che ci ha riscattati e ci ha chiamati per nome il Signore riponga la speranza nei nostri cuori e ci dia la sua pace ame ame avete ascoltato il culto evangelico valdese la predicazione di oggi è stata curata dal diacono Massimo Long del Signore di di al